A punto della riforma Celmini, questa riforma che ha cominciato con le divise, tutti con il maestro unico, tutte cose che fanno pensare la prossima riforma sarà il saluto romano quando entra il maestro in classe, ci marca solo quello, la scuola deve essere una scuola di qualità per tutti, sotto esame! Grazie a tutti!